Porta bene la Toscana al Pescara che dopo Carrara fa bottino pieno anche a Ponte d'Era sul campo dell'Aquila Montevarchi grazie ad una rete segnata da Frascatore nel finale. Finisce 2-1 in terra Toscana, bene così in attesa di trovare una maggiore concretezza in avanti e più sicurezza in difesa. Al Mannucci Auteri rispolvera in difesa gli Anesse in grosso a centro Camporizzo, in attacco Galano e Rauti. Il modulo è sempre il 3-4-3, i locali rispondono con il 4-3-1-2 in attacco Yalov e Gambale con Carpani, trequartista. Assente lo squalificato Martinelli, caldo e vento dopo la pioggia del mattino al Mannucci di Pontedera dove dirige Giordano di Novara. Vio di gara con i locali all'assalto e con Di Gennaro costretto ad intervenire già al primo minuto sull'Ischi e Gambale in area abruzzese. Pressing a tutto campo dei ragazzi di Malotti che non fanno respirare i biancazzurri. Con il trascorrere dei minuti però il Delfino inizia a prendere le misure dei Toscani con Memushai che al 14esimo con un tiro cross fa correre un brivido al portiere Rinaldi. Brividi dalla parte opposta al 16esimo con Di Gennaro che è costretto ad uscire dall'area per anticipare Gambale lanciato a rete. Al 21esimo Amatucci per l'Aquila Montevarchi grida al gol ma la sua potente conclusione colpisce in pieno il palo con il portiere del Pescara battuto. Sul prosieguo dell'azione palla Gambale che in area si gira e con un tiro violento mette la sfera di poco fuori. Quando attacca la squadra di Malotti è molto pericolosa. Il Pescara-Sornione controlla senza però riuscire mai a graffiare veramente. Si arriva così dopo una fase equilibrata nel finale di prima frazione quando al 41esimo Galano si guadagna una punizione dai 25 metri. Si incarica della battuta Memushai che mette la palla nell'angolino dove Rinaldi non può arrivare. Aquila-Montevarchi 0, Pescara 1 e festa grande per il 35enne albanese alla seconda rete stagionale. Nel secondo tempo si riparte senza cambi e con gli abruzzesi più pimpanti. I toscani sembrano risentire dello svantaggio e Malotti effettua un triplo cambio mandando sul terreno di gioco Mionic, Lunghi e Intinacelli per Gambale, Carpani e Mercati. In campo non accade molto con nervosismo tra i giocatori delle due squadre. Prima del quarto d'ora si infortuna in un'azione di gioco ingrosso che viene sostituito da Frascatore sarà la sostituzione che giocoforza decidere alla gara. Partita che resta però equilibrata fino al 21esimo quando Dursi recupera palla e se ne va verso Rinaldi mettendo poi il pallone incredibilmente fuori tra la disperazione di Auteri in panchina. Alla 23esimo entrano in campo per il Pescara, Zappella e De Marchi per Galano e Rauti con i Biancazzuri che poco dopo falliscono ancora una ghiotta opportunità in area toscana. Ora il Delfino fa la partita con i locali in difficoltà ma che al 26esimo trovano con l'ischi di testa il gol del pareggio con un traversone sulla sinistra che scavalca tutta l'area di rigore del Pescara con l'incornata vincente del giocatore Rosso Blu. Sempre la stessa musica per il Pescara che va in vantaggio, sciupa e viene raggiunto. Tutto da rifare per Memusciai e compagni che pian piano riprendono ad attaccare anche se in maniera confusa e disordinata trovando però al 43esimo in mischia la rete del nuovo vantaggio con il neoentrato frascatore. Delfino di nuovo avanti quando si arriva nel recupero dove non accade più nulla con la terza vittoria stagionale che diventa realtà e che vale nuovamente il primato in classifica in perfetta solitudine. La strada è lunga ma sembra quella giusta.